Blitz dei Novax nella notte tra martedì e mercoledì a Como, nella zona di Camerlata, presa di mira in particolare l'area del poliambulatorio di Via Napoleona, l'ex ospedale Sant'Anna, che ospita il centro vaccinale della città e l'ambulatorio dedicato ai bambini per la campagna anti-Covid. Una o più persone, al momento ancora ignote, hanno imbrattato i muri della scuola Castellini di Via Giulini, a poca distanza dall'ingresso Carraio del Sant'Anna e la sede stradale di Via Napoleona davanti all'ingresso principale del poliambulatorio, con scritte deliranti come i Vax uccidono ragazzi salvatevi, slogan scritti con uno spray rosso sul muro dell'istituto e sulla strada, segnalate scritte anche nel sottopasso di Camerlata e in altre zone della città. Nelle prime ore del mattino, dopo la segnalazione del Blitz Novax, sono intervenuti gli agenti della Digos della questura di Como. I poliziotti hanno fatto un sopralluogo e raccolto elementi utili ad avviare le indagini per risalire ai responsabili del raid. Grazie a tutti.